MP Play Videopillole sulla legge Salvini A cura di Melting Pot Europa In collaborazione con Lasciateci Entrare Chi ha diritto al progetto Siproimi? Ex Sprar Con la legge Salvini Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati Sprar Ha preso il nome di Siproimi Questo sistema viene anche detto di seconda accoglienza Possono accedere i titolari di protezione internazionale Status di rifugiato e protezione sussidiaria I minori stranieri non accompagnati I titolari di permessi di soggiorno per casi speciali Cure mediche, calamità e atti di particolare valore civile I richiedenti asilo fino alla risposta della Commissione Territoriale O che hanno proposto ricorso avverso la decisione negativa Possano essere accolti unicamente presso le strutture di prima accoglienza E di accoglienza straordinaria I CAS Numerose sentenze affermano che se sei un titolare di permesso per motivi umanitari E hai presentato domanda di protezione internazionale Prima del 5 ottobre 2018 E non sei mai stato inserito in seconda accoglienza Hai diritto ancora oggi al Siproimi Quindi, se non hai mai usufruito di un progetto SPRAR E ti trovi senza mezzi di sussistenza In una condizione di vulnerabilità Hai diritto di fare richiesta recandoti in una prefettura Devi sapere che il centro di seconda accoglienza con posti liberi Si può trovare in città diverse a quella dove stai vivendo È importante spiegare cosa ti serve, se hai familiari Se stai facendo uno stage, un tirocinio, i tuoi legami sociali Cioè tutto quello che dimostri che cambiare città per te potrebbe essere positivo o negativo Se la prefettura ti nega le misure di accoglienza O vuoi un aiuto per fare richiesta Contattaci o scrivici su WhatsApp Telefono SOS 39 351 508 6336 A presto! A presto! Grazie a tutti.